tutti di fare politica perché sono la macchina amministrativa che deve aiutare la politica e mi ha detto ma guardi qua tutto quello che era successo, che succederà, è già successo. Quindi lei ha questo libro, è il regolamento della Camera dei Deputati, poi abbiamo qualche precedente. Se c'è qualche problema enorme noi vi possiamo aiutare, vi assistiamo. Io non credo che ci voglia l'arte riscienza, io lo faccio da un anno e ci riesco. Ci riesco perché alla fine ci hanno sempre fatto credere che la politica doveva essere una cosa dei volponi vecchi di quelli che stavano da vent'anni lì dentro. Io vi posso dire invece che i più grandi risultati che si sono ottenuti in questa legislatura dal Movimento 5 Stelle le hanno ottenute persone che prima non avevano ben che minima idea neanche che cosa fosse una proposta di legge ma sono arrivate lì e hanno affermato una cosa di cui sono sempre più convinto che oggi l'entusiasmo vale più dell'esperienza e l'esperienza in questi anni è stato un limite perché ha portato la classe politica a convincersi che alcune cose non si potessero fare e invece non è vero. E vi faccio tre esempi. Io sono arrivato alla Camera dei Deputati un anno fa, ve l'ho detto. Il 20 marzo sono stato eletto vicepresidente e siamo finiti io e altri due in un organo che si chiama Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati. Nell'Ufficio di Presidenza è una sorta di consiglio d'amministrazione della Camera dei Deputati. Decidiamo tutto quello che riguarda la Camera, anche le spese. Siamo arrivati lì, abbiamo letto il bilancio. E nel bilancio abbiamo trovato che ogni anno spendevamo 35 milioni di euro di afflutto per due palazzi che valevano 3 milioni di euro. Abbiamo detto scusate, abbiamo speso negli ultimi 20 anni e negli ultimi 12 anni 544 milioni di euro perché c'erano anche i servizi aggiuntivi e così via. Ma noi ce li compravamo sui palazzi, 3 milioni di euro e risolvevamo tutto. Non si può fare. Non possiamo recedere da questo contratto perché è un contratto che vale fino al 2018, dal 97, senza clausola di recesso. Non si può recedere al contratto. Io e Riccardo Fraccaro, che è il mio collega nell'Ufficio di Presidenza, diciamo scusate, noi siamo quelli che fanno le leggi in Italia e ci dite che non possiamo fare delle cose. è un assurdo perché questo è un contratto che è stato fatto per legge. Allora ci dicevamo, va bene, questo mio collega scrive tre righe di proposta e le porta in Parlamento, nessuno se ne accorge, in cui c'erano scritti che tutti i contratti eccessivamente onerosi in essere con la pubblica amministrazione o con gli organi costruzionali si potevano, si potevano recedere da questi contratti nel 2014 un premiso di semplice. Passa questo emendamento, questa proposta di Riccardo, nessuno se ne accorge, scoppia un casino perché quell'imprenditore che aveva quell'apparto comincia a ribellarsi per da fuori tutte le schifezze che in questi anni aveva fatto coperti dalla politica. E scopriamo, per esempio, che quando Gianlui Olante del PD firmò il contratto di affitto per questi due immobili, lui non era proprietario dell'immobile. Gli fu firmato un contratto, andò in banca e disse guardate ci hanno firmato il contratto, ora fatemi il mutuo e mi compro i due palazzi che pagò in due mesi, visto quanto gli pagavamo di fitto, dopodiché ha avuto utili per 12 anni. Ora, io vi dico, questa cosa, la scoperta uno, che fino a un anno fa là dentro non ci stava e tra l'altro era un laureato in giurisprudenza che si è pagato gli studi facendo il pizzaiolo in Veneto e che tra l'altro aveva semplicemente visto che c'era un'assurdità nelle uscite della Camera dei Deputati. Bene, questo mese noi recediamo da contratti di 35 milioni di euro i soldi vostri grazie ad uno che in politica non ci stava fino a mano fa. E io vi ricordo che si sono alternati tutti i partiti alla presidenza della Camera in questi anni. C'è stato Bertinotti, c'è stato Casini, c'è stato Fini, ci sono stati tutti in questi anni. Quindi di che stiamo parlando? Se non era per questa gente che di politica non capisce niente. Come facevamo? Un'altra cosa, le imprese. Noi siamo convinti, come Movimento 5 Stelle, che se tu aiuti l'impresa, quella onesta, stai aiutando anche i lavoratori. Noi stiamo venendo da anni in cui ci hanno messo sempre lavoratori contro impresa. Hanno sempre fatto pensare che ci dovesse essere una delle due parti che doveva soccondere. Ma le piccole e medie imprese, che sono il 95% del nostro tessuto economico, quello lì, io le conosco. Ci sono imprenditori che prima di pagarsi lo stipendio per sé li danno agli operai che a fine mese a volte non fanno niente, non intascano niente pur di tenere bene le famiglie dei loro operai che tengono a carico da anni, da decenni. E allora sono arrivati due di questi imprenditori nella Commissione Affari e Attività Produttive della Camera grazie al Movimento 5 Stelle. Hanno 35 anni. Si chiamano Mattia Fantinati e Davide Crippa. Sono miei colleghi del Movimento 5 Stelle. e cominciano a lavorare a quelli che sono i problemi che fino a un anno fa loro vivevano nella loro impresa. Due su tutte. Se un'impresa prende i soldi pubblici grazie a tutti i giochi delle distribuzioni, degli sgravi, del lavoro e del fatto che per esempio fai i costi di formazione e così via, questa azienda poi dopo un anno se ne va e localizza in Turchia, i soldi li dovrebbe restituire per quello che si è preso e per gli utili che ha fatto grazie ai soldi pubblici che si è preso? Beh, questa regola non esisteva. arriva Mattia e decide di scrivere queste domeniche di emendamento che passano. E poi in Italia, se entro tre anni un'azienda ha preso fondi pubblici e poi ne localizza fuori, alla fine deve restituire tutti i soldi pubblici che ha preso, perché tu devi restare qui se vieni finanziato dallo Stato italiano. Due. Per gli imprenditori. Quanti imprenditori si sono suicidati negli ultimi 3-4 anni? Perché? Non era perché non riuscivano a pagare le tasse, ma loro non le potevano pagare, perché abbiamo il 40% del nostro tessuto di piccole e medie imprese che ha crediti nei confronti della pubblica amministrazione, che non gli paga i lavori che ha fatto.